uè ragazzi qua si vede proprio un bel panorama accidenti proprio è proprio un panorama abbastanza cioè invidiabile unico al mondo guardate che che zona qua con questi rematori che passano ma qua siamo una situazione pericosa perché qua i sassi continuano a crollare qua sotto sotto la rocca di garda proprio e sotto questo muro che è a quanto è faticente guardate che roba e pezzi che vengono giù i sassi in testa a chi si siede su questa panca e qui siamo proprio sul lungo lago di garda sulla passeggiata garda bardolino guardate che questa muraglia come è messa qua oggi nei giorni di aprile guardate tutta sassi che vanno sopra e se uno si siede qua sulla panchina rischia di beccarsi un masso in testa e mi sembra una situazione alquanto pericolosa da che deve essere sanata a più livelli perché qua non è possibile che ci sia questa situazione così critica e noi la segnaliamo perché qua si rischia proprio che oltre che sassi della rocca qua sopra che rischiano di crollare di venire giù proprio qui sulla passeggiata ma nonostante la reti paramassi che anche questa muraglia crolli in testa al cittadino inesperto e indeciso se sedersi ormai su questa panca che soggiace come quell'altra sotto questa muraglia e che porta questa muraglia verso bardolino e verso questo panorama incommensurabile grazie